La scelta di lasciare Brindisi e venire qua a Ravenna è stata presa con molta decisione perché mi hanno fatto sentire subito un giocatore importante, quindi ho sposato il progetto del presidente, del territorio sportivo e della natura Mazzon, che mi trina sempre aggiornato quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di cominciare per iniziare a lavorare e fare un buonissimo campionato qua a Ravenna. Sappiamo tutti che sarà un campionato difficile perché tutti si stanno attrezzando per raggiungere la proporzione, i play-off, per essere in categoria quindi noi ci dobbiamo far trovare pronti. Ancora è presto per fare valutazioni, vedremo anche in pre-campionato durante Amichevoli come andrà anche perché come ha detto anche Marco molte squadre sono attrezzate per fare un buon campionato e vediamo sin da delle prime amichevoli a che punto saremo e poi faremo delle valutazioni. Ho sempre avuto il numero 9, perché mio papà giocava e giocava con il numero 9 e quindi l'ho sempre avuto, però per non fare storie con Marco ho preso il 32. a due.